Boom di giovani donatori Avis in provincia di Arezzo. Tra i nuovi iscritti nel corso del 2023, 3 su 10 sono infatti under 25. Crescono anche le donazioni rispetto al 2022, più 3%, e il territorio risulta essere il secondo a livello regionale per aumento dei conferimenti di plasma, più 15%. A stabilirlo l'ultimo report stilato da Avis regionale toscana in relazione all'anno 2023. Le donazioni totali nella provincia retina sono state 16.450 dei 10.605 soci donatori totali. La fascia d'età che ha portato proporzionalmente il maggior contributo è stata quella compresa tra i 46 e i 55 anni, seguita dal segmento 56-65. Ottimo come evidenziato il riscontro in termini di ricambio generazionale. Tra i nuovi iscritti, 3 under 25 su 10 hanno scelto di diventare donatori nel corso del 2023. Le buone notizie non terminano qui, perché nel frattempo la provincia retina risulta la seconda in Toscana per aumento di donazioni di plasma, più 15%, mentre risultano sostanzialmente stabili quelle di sangue intero. Si tratta di numeri incoraggianti sotto molteplici punti di vista, commenta la presidente di Avis regionale, Claudia Firenze, perché testimoniano la dinamica di un fondamentale cambio generazionale in corso e perché ci confermano che la strada della sensibilizzazione alla cultura del dono è quella giusta. Grazie a tutti.